immagina un mondo in cui per sopravvivere non devi fare rumore devi prestare attenzione a ogni tuo movimento a dove cammini, a cosa calpesti, a come parli, a come respiri delle creature aliene con un udito sensibilissimo hanno invaso la terra, sono rimasti solo pochi sopravvissuti e tu sei uno di loro non è vero non è vero Grazie a tutti. 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 Bene. Ok. Grazie a tutti.